Ok ragazzi e ragazze buongiorno a tutti, allora le armi del gladiatore quest'anno, ma anche ormai da tanti anni a questa parte, però voglio enfatizzare un po' il discorso oggi degli square, perché gli square sono interessanti. Allora quest'anno e l'anno, buongiorno a tutti, grazie, buongiorno a tutti, allora quest'anno e l'anno dei livelli, quindi livelli bancari secondo me di primaria importanza. Sicuramente sotto ci sono le open e questo lo capiamo anche bene dal discorso del piano cartesiano. Poi ci sono i pivot, i pivot come vi ho detto ieri, scrivo pivot point, i pivot come vi ho detto ieri sono da guardare quantomeno per sapere che cosa stiano vedendo i piccoli, ok? Però un martello su un pivot a me non piace più di tanto, se c'è solo il pivot, perché? Perché lo vedono tutti, lo vedono in troppi e quindi hanno perso di efficacia le cose che vedono in troppi, ok? Quindi preferisco rimanere con i martelli, le spike, ma sui livelli bancari, ok? Ciao Gaetano, buongiorno, le etichette quali? Quelle sotto degli strumenti o che cosa? Intanto tu mi rispondi e benvenuto perché forse è la prima volta che ti leggo e niente, avanti tutta. Allora, quindi dicevo quest'anno e l'anno dei livelli, ok? Secondo me, per me, per quello che voglio fare. Quindi sicuramente i livelli bancari, le open, i pivot point, ma prima dei pivot io ci metterei qui così gli square, lo square. Lo square è un discorso che deriva dalla PPA, la parità del potere di acquisto. Sostanzialmente nello square ci sono i movimenti in percentuale che hanno fatto altri strumenti. In questo caso specifico, se io clicco qui, cioè se passo qui sopra, no però non me lo fa vedere qui, vediamo qui neanche, ho tolto le etichette. Comunque sono i movimenti, in questo caso, delle tre monete che lavorano a 45 gradi sul piano cartesiano. Allora, non, come dire, cosa detto? 45 gradi sul piano cartesiano? Calma, perché adesso, ripeto, siamo in partenza, ma da qui alle prossime settimane, mesi, eccetera, il piano cartesiano, vi ripasso tutti il link, ovviamente, e lo utilizziamo, per cui saremo, come dire, sempre di più allineati tutti quanti anche sul piano cartesiano. Sì, sotto per vedere meglio lo strumento del time frame, va bene, allora basta che io prenda qui e vada un po' più giù, e così comprendo anche gli strumenti. A posto Gaetano. Allora, quindi, dicevo, gli square derivano dalla PPA, nel senso che le percentuali che oggi, cioè che in questo momento sta facendo, ad esempio, allora, riparto, le monete che sono dentro allo square, perché poi tanto voglio farlo, ho scritto prima al programmatore, però adesso vediamo quando mi risponderà, perché lo square voglio passarvelo così come anche la volatimetria, nel senso voglio metterli sotto licenze e farveli avere, però lì non dipende più da me, ma dal programmatore, no? Quindi nello square voi potrete mettere gli strumenti che volete, ok? Però il discorso è che, dai test che abbiamo fatto, e parlo al plurale perché ovviamente non li ho fatti da solo, eccetera, eccetera, le monete che lavorano meglio sono il CAD, il franco svizzero e lo Yen, JPY, ok? Quindi queste monete sul piano cartesiano lavorano a 45 gradi, poi ci sono l'Audi, l'NZD e il GVP che lavorano a 135 gradi, ma prendetela così per adesso, per chi non ha ancora visto il piano cartesiano, poi tanto vi uscirà dalle orecchie, lo vedremo tutti i giorni. Allora io qui dentro metto sostanzialmente CAD Yen, CAD CHF e CHF Yen, e vado a vedere i movimenti che hanno fatto questi tre strumenti, quindi si possono tenere d'occhio anche aprendone semplicemente, semplicemente tra virgolette, il grafico sulle vostre piattaforme, sui vostri monitor, qui viene invece plottato tutto in maniera più comoda sull'Euro-Dollaro, ok? Se io andassi a mettere, buongiorno a tutti, dentro lo square l'Audi, l'NZD e il GVP, avrei immediatamente uno square che lavora meno bene perché sappiamo tutti che sono quelle che ho detto, l'NZD, l'Audi, ma anche il GVP, monete molto più volatili di Euro-Dollaro, quindi Euro-Dollaro trova il suo equilibrio con queste tre monete, quindi portatevi comunque a casa se volete questa info qui perché comunque partendo da distantissimo, vi ho detto che cosa, volete tradare Euro-Dollaro? Guardate CAD Yen, CAD CHF e CHF Yen, quelli sono i tre strumenti che hanno un bel legame, diciamola così, con l'Euro-Dollaro, ok? Bene, detto questo, allora lo square, che qui probabilmente questo qua non ha lo storico, infatti, perché è quello che non dovrebbe piantarsi alla sera, ma di qui ho messo quello che ha lo storico, quindi andiamo un po' indietro, fin dove mi carica il discorso. Chiaramente anche qui, ve lo dico già da adesso, questi sono strumenti che prendono lo storico anche dagli altri strumenti che vi ho detto, per cui se io attacco questo square qui e non ho mai aperto il grafico di CAD Yen, non funziona, quindi io dovrò sul time frame dove voglio usarlo, però anche qui dico subito che questo indicatore è time frame indipendente, esattamente come la volatimetria, quindi se vi trovate bene come aspetto visivo, usatelo sull'un minuto, ok? Io sull'un minuto non mi trovo benissimo qui in Trading Room perché poi devo togliere troppo lo zoom o cose del genere, no? Quindi 5 minuti va bene, ma se io vado a cambiare di time frame sostanzialmente non cambia a grandi linee di tanto, cambia un po' dove ci sono delle lunghe spike, come abbiamo detto ieri per la volatimetria, quindi io tendo a far fare degli indicatori sostanzialmente che nascono alla open e poi vanno avanti, vedete? Anche la volatimetria nasce alla open e poi accumula dati, ok? Quindi non ha storico rispetto al giorno prima sostanzialmente, bene? Quindi non c'è legame con il giorno prima. Allora detto questo, quindi poi comunque quando poi lo passo ve lo... cioè lo rivediamo, no? Così lo settiamo insieme eccetera eccetera, allora carichiamo gli storici degli strumenti che vogliamo inserire lì dentro e gli attacchiamo lo square. Sostanzialmente lo square come va interpretato? Va interpretato come una scatola che sarebbe tridimensionale, solo che ovviamente su un grafico bidimensionale lo facciamo due dimensioni, però la tridimensionalità, se così possiamo dire, la vediamo dal punto di vista che anche un livello notturno, mantenuto per un po' di tempo, se io lo plotto così, in avanti nel tempo stesso nel grafico, è significativo, ok? Quindi non è che sia solo significativo lo square quando, vedete qui, tangibilmente il prezzo è andato molto vicino alla linea rossa. No, poteva anche questa linea rossa essere molto più alta, come dopo è capitato, vedete che dopo lo square ha ampliato molto la scatola, perché evidentemente cosa stava capitando? Che o CAD Yen, o CAD CHF, o CHF Yen stavano facendo una volatilità interessante, quindi voi andate a vedere il 27 di novembre e vedrete che sarà così, ok? Uno dei tre, o tutti e tre, o due, insomma però almeno uno stava spingendo molto, molto. Buongiorno, buongiorno, ciao Pietro, buongiorno a tutti, ok? Quindi detto questo, questo livello, certo ha lavorato benissimo qui, ma ha lavorato bene anche qui, ok? Proprio perché, ripeto, io la vedo così, diciamo tra virgolette la tridimensionalità, ok? Quindi sono livelli che funzionano non solo quando vengano toccati lì, ma anche plottati in avanti nella giornata. Allora, detto questo, chiaramente sugli square si possono fare più che un ragionamento, però oggi ve ne trasmetto inizialmente due, ok? Poi, se per voi va bene, farei lo studio della giornata di ieri per ripassare insieme, volatimetria e i livelli e le candele, e vediamo che cosa sarebbe venuto fuori. Poi, ripeto, domani non ci sono, ma c'è la trading room dei tre moschettieri, troverete il link dove normalmente trovate questo, e poi giovedì finalmente partirò, o da una parte o dall'altra, ok? Detto questo, volevo ancora, poi di oggi se ce la facciamo, parlare un po' di gestione, perché sulla fine poi abbiamo l'idea di trading, cioè andrò long o short, perché? Per innescare il trade userò il livello bancario più determinate candeline, ok? E poi quanto ci metto? Sì, prendo 200 pips di portafogli, diciamola così, e su quei 200 pips gli assegno un valore in euro e so quanto volume di ingresso utilizzare. Però, se io subirò una sequenza di vittorie, o subirò una sequenza di perdite, cosa faccio? Mi manterrò sempre sullo stesso regime di ingresso? Parliamone un attimo dopo. In realtà, vi dico, come mi ha beccato Paolo, complimenti dalla voce, e tutta la notte che studio, ma veramente, però non mi stanca, cioè è così, è più forte di me, nel senso che è così, ci sta, ok? Comunque, oggi se avessi avuto il conto, abilitato quello che voglio, sono, credo, lucido per operare. Però, le riflessioni che faccio alla notte, quando sono proprio da solo, tranquillo, c'è completamente silenzio, bla bla bla, eccetera, eccetera, insomma, sviluppiamole anche di gruppo, o quantomeno ve ne parlo, poi ognuno di noi farà il ragionamento più opportuno, ok? Detto questo, Pietro mi dice, stamattina, senza la dovuta disciplina, ci si beccava una bella hit, mi è andato tutto bene, ottimo. Mi faccio le affari tuoi, Pietro, sei a casa, tutta la mattina, ce lo racconti dopo a voce, che mi farebbe piacere fartelo dire a te, o, insomma, ok, grazie, verso i dieci e mezza, così, così ti chiamo, ok? Così ti faccio dire due robe, va bene? Così chi non ti conosce, non ti ha ancora sentito, lo può fare. Benissimo, allora, partiamo dalla cosa più facile di tutte. Allora, zoomo un peletto. Sì, dieci e mezza, dieci e un quarto, così, prendo fiato e ti passo un attimino la parola. Se hai voglia di preparare due screenshot, Pietro, mi fai un favore enorme. Allora, il discorso è questo. Primo ragionamento. Quest'anno abbiamo detto, almeno per quanto mi riguardi, Massimiliano conferma, confermo, vero, disciplina e tutto. Va bene, dai, dopo ne parliamo un attimo, dieci e un quarto, dieci e venti, chiamo Pietro. Quindi tra un'oretta. Allora, detto questo, allora, un po' di presentazione ve l'ho fatta, però adesso non stiamo lì a impazzire, nel senso che anche, proprio, è tutto questo lavoro che non richiede, come dire, la necessità di impazzire. Per quello che io prendo sempre in giro il mio amico ingegnere, perché lui vorrebbe trovare le giuste formule matematiche, i giusti numeri per tutto, e in questo momento abbiamo appena parlato di disciplina, che sicuramente è un aspetto molto più psicologico che non numerico, se posso dire così, Massimiliano, e chiedo conferma a te, no? Quindi, questo per dire che, ok, ho più o meno capito che cos'è lo square, ma, oltremodo, non ci deve interessare, ci deve interessare come usarlo. Allora, la linea guida che vi consegno è la seguente, dove voi vedete una linea rossa, per adesso parliamo delle linee rosse, abbastanza lunga, ok, allora quella è una zona molto molto interessante da parità potere acquisto, parità del potere di acquisto, PPA, cioè vuol dire che l'euro dollaro nasce, come nasce ogni giorno ogni strumento nel Forex, e ha una possibilità dal punto di vista della PPA, cioè prendo una bottiglietta all'aeroporto in Germania, per andare in America, ok, in Germania pago quella bottiglietta, un euro, due euro, in America la pagherò in dollari, ma più o meno ci sarà, no? Il giusto corrispettivo, tra euro e dollari, quindi la bottiglietta la pagherò due dollari, tre dollari, un dollaro, non la pagherò 500 dollari, perché questo? Perché c'è la PPA, che è questo collante tra tutte le monete, che quindi permette che, sul pianeta Terra ci si possa spostare da un paese all'altro, ritrovando un filo logico, ok? Altrimenti salterebbero gli scambi commerciali, i rapporti di lavoro, e bla bla bla, ok? Le vacanze, tutto il resto. Bene, allora detto questo vuol dire che, quando l'euro dollaro nasce, lui può muoversi tranquillamente su e giù, speculazione. Ad un certo punto va su, quando trova questa zona qui, questa zona qui ci dice che trova una resistenza da PPA, cioè sarebbe più gradito che l'euro dollaro torni indietro. E' più facile che torni indietro l'euro dollaro, che non l'euro dollaro rompa questo livello per poi andare ancora su. E' più facile, ce ne accorgiamo, e ve ne accorgerete semplicemente ad occhio, vedrete che la maggior parte delle volte, la linea rossa fa supporto o fa resistenza, quando invece viene rotta, la linea rossa cambia colore, ed è il secondo pattern, lo vediamo tra un attimo, ok? Quindi, il consiglio è, prendete le linee che a occhio siano più, lunghe, anche qui, ma veramente, non c'è bisogno di dire, la barra rossa deve essere lunga, non lo so, qui ci saranno, 100 barre, non lo so, vediamo quante ce n'è, 60, ho sbagliato, no? Non è che, dobbiamo dire, deve essere lunga 60 candeline a 5 minuti, io lascerò sempre il template su 5 minuti, allora io, proprio io, Fabio, nella mia testa dico, un centimetro, questo è troppo poco, ok? 2 centimetri, ancora non è così tanto significativo, questa qua, non lo so, quanto sarà? 5 centimetri? Nella mia testa è 5 centimetri, per esempio, cioè io memorizzo quella lunghezza, dico, ok, è più che sufficiente, questa qua, potrebbe già essere anche interessante, anche se, c'è un piccolo gradino, ma è così piccolo, che in realtà, il livello è rimasto sempre lì, ok? chiaramente, i livelli notturni, sono meno significativi, per esempio, c'è il discorso, che c'è bassa volatilità, pochi soldi, e quindi, è meno, come dire, strutturato, quello che è capitato nella notte, poi, lo si guarda ed è importante, dal punto di vista della open, eccetera, eccetera, però, sono più significative, le linee, lunghette, di color rosso, che si fanno da una certa ora in avanti, in genere, parlando di euro-dollaro, la BCE ha l'abitudine di arrivare tra le 4 e le 5 della notte, con i suoi software, quindi, questo vuol dire che noi potremmo anche prendere come open, come convenzione, le 4 italiane, o le 5 italiane, ok? da lì in avanti, quello che inizia a capitare è più credibile, su euro-dollaro, e sto dicendo, rispetto a quello che possa capitare dalla open, fino appunto alle 4 e le 5, spiegato così, penso che sia chiaro, ora, il discorso è, intanto parto da distante, e vi dico semplicemente, cioè, quello che vedono dai nostri occhi, cioè, qui c'è una linea lunghetta, sufficientemente lunghetta, il prezzo arriva qui, bon, io penso short, ragazzi, ragazze, finito, poi, da lì, ognuno troverà la maniera per entrare, no? Prendo questo pezzo di grafico, vedo che c'è un wolf modificato, traccio questa trend line, ha tenuto la resistenza, ok? rompendo qui, posso provare a portare i prezzi giù, fino a questo livello, per esempio, ok? I livelli che a occhio vedrete come più significativi, ma è chiaro che se qui passavo a un livello bancario, potevo fare questo, e poi, reiterare lo short magari dopo, ok? Quindi questa è un'idea per entrare dopo che ha toccato, dopo che ha toccato, vedo la spike, e vado short sotto il primo minimo, e questo è quello che farò tendenzialmente io, sono già giorni che parliamo delle spike, se no traccio una trend line, entro short qui sotto, cioè, quella è solo più, tra virgolette, una scusa per entrare, oppure, avrò la media mobile del ciclo, che a occhio e croce, magari passerà più o meno anche qui, la 12, no? Magari su un 4 minuti sarebbe meglio, ma se mettete anche su 5 minuti, tutto sommato va bene, ok? Quindi, ognuno lì troverà la sua modalità, che ne so, magari unisco questi due massimi, e vedo che c'è un canale così, per esempio, e dentro short al rientro del canale, cioè, canali, spike, trend line, medie mobili, vanno tutte bene per entrare, ok? L'importante è avere un perché, entrare short, o perché entrare long, e qui il perché ce lo dà questo livello, dopodiché, il prezzo, dopo che va giù, ritorna su, ritorna in questa zona, è chiaro che, si sono create nuove zone sopra, no? Però questa qua, proprio per quello che vi ho detto prima, per i test che ho già fatto, ok? è una linea rossa lunga, tra l'altro, abbastanza unibile, se così possiamo dire, a quella precedente, quindi, vedete queste due qua, e poi c'è anche questa dentro, cioè, questa è proprio una bella zona, da PPA, dove, con buona probabilità, il prezzo si andrà a fermare, poi, quando siete, o saremo, o sarete in quella zona lì, di resistenza, ragionatela come volete voi, con buona probabilità, su questo doppio massimo, ci sarà anche una divergenza ribassista, o è doppio massimo, su una zona di resistenza, insomma, non tutti i giorni, avremo dei segnali così, però, quando ci sono, come ho detto ieri, non tutti i giorni, avremo i segnali sull'annuale, per esempio, però, quando ci sono, una o due volte l'anno, perché non usarli, ok, quindi, questo è un discorso, ricordatevi, questa regola, che tra un po' vedremo, che spessissimo, il prezzo si stampa proprio, su queste zone, al millimetro, o quasi, molte volte, prosegue, ancora in questo caso, da esempio su, ma ritorna, a ritestare la linea rossa, ok, quindi, da qui, di nuovo, ognuno ha la propria testa, nel senso che, io potrei dire, ve lo anticipo così, poi lo vediamo sui grafici, io potrei dire, shorto qui, e se mi va ancora su, continuo a shortare, a più livelli, perché, il mio short qui, voglio farlo tranquillo, con l'obiettivo di arrivare, magari, in questa zona, tra oggi e anche domani, perché anche qui, la chiusura, è una convenzione, non è che la PPA, apre e chiude a tutti i giorni, anche se io faccio fare l'indicatore così, quindi, alcuni livelli, di oggi, ce li portiamo anche al giorno dopo, soprattutto quando sono lunghe linee rosse, quindi, questa lunga linea rossa, me la porto al giorno dopo, ok, questa lunga linea, questa lunga zona, me la porto al giorno dopo, ok, va bene, esattamente come facciamo per i massimi minimi, le open, eccetera, quindi, detto questo, io entro qui, mica sempre sarà che prendo il massimo, o il minimo al millimetro, so che tante volte mi andrà contro, ma so che quando mi va contro, ho alta probabilità, tra oggi e domani, di ritornare qui, allora, se io, generico, voglio fare un trading, tranquillo, cosa faccio? Entro qui a leva un quarto, perché, anche se entro basso, come volume di ingresso, voglio magari portarlo fino a qui, no, che è questa zona, e magari questi sono, non so, 100 pips, faccio finta, e benché io entro e levo un quarto, faccio uno 0,20% pulito, per esempio, no, però so che, per entrare così, devo far correre tanto, e se mi va contro, devo entrare con, come dire, i rinforzi, che saranno, da piramidazione classica, che ho fatto già più volte sul Fabriere, quindi leva un quarto, leva mezza, leva uno, però, attenzione, bisogna fare delle simulazioni prima, perché poi come reagireste, se vi va ancora contro, eccetera, eccetera, vi stoppereste, viaggereste, come stareste mentalmente, altra possibilità, sicuramente, che prenderà più stop loss, però, tiene sicuramente, meglio d'occhio, la situazione, è proprio quella che vi ho detto, cioè, io aspetterei, no, che cosa, il tocco o la zona, o la prodo in questa zona, e starei ancora fermo, e cauto, e poi, o con una, mettiamogli una media mobile, per esempio, se non volete tracciare le trend line, se no, tracciate le trend line, che, secondo me, non è male, ma gli mettete una media mobile, quella del ciclo, magari un po' più sottile, e semplicemente, dopo che voi, abbiate appurato, che, effettivamente, il livello l'ha sentito alla grande, perché, non l'ha superato di niente, e andiamo a chiudere sotto la 12, da qui vado short, poi è chiaro che, con, livelli bancari, pivot, eccetera, magari qua, qualcosa passava, e prendevate, prendevate il target, oppure, ripeto, posso tracciare così, e ci siamo capiti, poi, posso rientrare, dopo che di nuovo al millimetro tocca, mi chiude di nuovo sotto, ovviamente entrando qui, lo stop loss da sopra, visto che si è fermato, guarda caso, e sto facendo segno con le mani delle virgolette, perché non è un caso, entro short qui sotto, e anche qui, fino, oppure, posso tenere fino a quando, non abbia un segnale opposto, sulla media mobile, quindi, ok, va bene, però, l'oggetto del webinar di, questa mattina, o comunque di adesso, è la tenuta di questi livelli, ok, quindi, è un altro livello in più, che si aggiunge alla nostra giornata, e questa l'abbiamo vista, quindi c'era, questa zona, e questa zona, poi, chiaramente, se scende, questo qua era un primo target, e questa zona qui, era un secondo target, che tutto sommato, ha preso qui, più o meno circa quasi, vado al giorno dopo, chiaramente, come ho detto prima, ci sono, per tutte le tecniche, degli orari più propizi, e degli orari meno propizi, ci sono degli orari più propizi, per il contrarian, li abbiamo detti ieri, e quindi, quelli che non sono gli orari del contrarian, sono gli orari del trend, tutto legittimo, chiaramente, occhio anche ai dati macro, allora, il discorso è questo, io arrivo, cioè, l'euro dollaro, l'euro apre, e si muove, tutto dentro al canale rosso, benissimo, io arrivo alla mattina, e che cosa vedo, soprattutto questa zona qui, e chiaramente anche quella zona lassù, quella zona lassù, non ci interessa, non viene presa, si ferma qui il prezzo, quasi sempre il prezzo, si ferma su degli square, solo che il problema, è di nuovo quello che vi ho detto ieri, io dovrò, sui livelli bancari, provarle tutte, perché non so quando entri, realmente un istituzionale, non lo so, allora devo provarle tutte, so che se entra, so come devo comportarmi, no, dopo lo ripassiamo sulla giornata, che è finita, vediamo se ci sono, è finita ieri, quella di ieri, se ci sono dei segnali oggi, qui è di nuovo uguale, ok, quindi, io non so, io posso sospettare, che questa salita, si possa fermare, su questa zona qui, dove infatti si è fermato, però vedevo questa, e avrei gradito di più aspettare questa, perché gli davo più fiducia, ero più confidente, nella sua tenuta, perché più è lunga la striscia, e più ho visto che funziona, funziona dal punto di vista, di fermare, più o meno bene i prezzi, non è detto che sempre si prendano, delle inversioni, ok, allora io vi faccio vedere, di nuovo qui c'è una bella spike, no, vedete che c'era questa linea, questa qua, e si poteva unire anche un po' a queste, quindi questa era una zona, e l'ha sentita, però non era la zona più lunga, la zona più lunga era già questa, questa qua era già una zona più lunga, e sicuramente c'era questa, quindi io provo a plottarle, avanti nel futuro, cercando di andare dritto, e di nuovo vi faccio vedere, che quando il prezzo di euro dollaro, è arrivato, in questa zona, in questa zona, e vedete che ci sono delle spike, di lì di nuovo, un'opportunità c'è, poi è chiaro che ragazzi e ragazze, occorra sui primissimi target, essere tempestivi, e tirarsene fuori, ma questo collima con la gestione, che dopo vorrei ripetere a tutti, soprattutto dopo una notte, di ulteriori studi, ok, e di ulteriori pensate, tra le varie cose, quindi quello che voglio dirvi, è che forse, bisognerebbe ragionare sul fatto, che entrare rischiando uno, per prendere tre, sia sbagliato, ragazzi e ragazze, io non l'ho mai fatto in 21 anni, 20 anni perché il 21esimo è quest'anno, non ho ancora tradato, ma io in 20 anni non l'ho mai fatto, chi segue la trading room, lo sa che io ho sempre fatto, entro, prendo 7-8 pips, e ne rischio 20, 30, 40, sempre fatto così, e per questo che io mi sento, come dire, molto coinvolto da quello che ho, riletto, ripensato, rifatto, ritestato stanotte, cioè, entra per prendere uno, rischiando tre, è meglio che non fare il contrario, ma numeri alla mano, e di nuovo, spero di riuscire a parlarne dopo, comunque di oggi, se non ne possiamo parlare, nei prossimi giorni, ma ne ho parlato tutta la fine dell'anno scorso, quindi trovate tutto nel blog, allora, detto questo, quando io abbia questa zona qui, di resistenza, questa zona qui, scusate, il supporto, entrambe le zone, senza andare a zoomare, ma vedete che ci sono delle spike, quindi, questa è una zona dove potrei entrare, poi potrei anche entrare, rischiando, ripeto, entrare qui a priori, mettere uno stop loss di 30 pips, per prenderne 10, è corretto, mi viene da dirvi oggigiorno, è corretto, dopo ne parliamo con i numeri davanti agli occhi, ok? Chiaramente, l'analisi tecnica, per quello che abbiamo detto ieri, a parte i livelli, a parte le spike, le trend line, io qua non la posso non vedere una trend line del genere, no? Quindi se entro qui, e vedo che ad un certo punto, si avvicina ad una tendenza ribassista, se non ci credo, metto lo stop a pari, me lo prendeva qui, se no, chiudo anche tutto, non vado a misurare quanti pips siano, perché per adesso non è importante, ok? Quindi in questa giornata qui, avere questi livelli, quindi questo, e questo, mi dava un vantaggio, ok? Magari poca roba, ma mi dava un vantaggio, cioè quando il prezzo è arrivato lì, poi dopo è ancora sceso, ma quando nell'immediatezza è arrivato lì, ha tenuto, si è fermato un attimino, quindi chi è un po' rapido e veloce, lì qualche pips se lo prende, andiamo avanti, giorno dopo, per adesso, fate finta di non vedere quando lo square diventi giallo, ok? Fate finta. Allora, cosa vi faccio vedere? Prima cosa la linea sotto, perché? Perché è lunga e non l'ha presa, ma di quanto? E questo è il punto di domanda, di quanto non l'ha presa? Quindi, di nuovo, sono linee, ma sono sempre delle zone, quindi è chiaro che il trader che sta diventando esperto, definiamola così, vede questa linea rossa, la proietta, vede due o tre spike qui, e si fa incuriosire, entra al brucio dopo le spike, mette lo stop loss qui sotto, entra al brucio dopo le spike, per prenderne 10, e ne rischia 30, ed è corretto, ed è corretto, dopo lo vediamo, oppure, che ne so, sa che questa è una chiusura di un ciclo, visto, vista l'avemenza ribassista, e quindi, può ripartire sopra la 12, oppure traccia una trend line, ok? Però, è vicino, ad una zona, molto, 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 e ancora una volta, molto importante, tenete presente, che questo square qui, ho fatto fare più versioni, perché, niente, come i programmatori sanno, non si fa mai quasi, la prima versione, e quella definitiva, tranne di un indicatore, proprio, basico, basico, no? Quindi, questo per dire che, adesso vi faccio vedere, questo qua, è lo square che ha lo storico, vi faccio vedere quello che non ha lo storico, guardate cosa c'è da notare, che, quando si creano le, le, le linee rosse, ok? Una sopra e una sotto, che è molto bassa, non vedete, vedete che c'è una linea di questo colore qui, ok? Lilla, o non so che cosa sia, bene, è la metano, no? tra, eh, la linea sopra, e la linea sotto, è la metano, ed è un livello significativo, quindi, questo per dirvi che cosa, che ritornando di qui, chiaramente, quando c'era questa distanza, qui in mezzo, c'era questa linea di quel colore che vi ho detto, quindi, un long in questa zona, ha ottime chance di andare a prendere quella linea lì, e via, di seguito, ok? Però, ripeto, ripeto, proprio, come dire, reduce da una notte di studi sulla gestione, e basta, perché ormai i tecnicismi li abbiamo, ok? Quindi, adesso io devo, o stanotte volevo, ma non ho ancora trovato quello che voglio, però ho già contattato Euge, perché mi è venuta un'idea, dobbiamo farla su Excel, io adesso vorrei trovare il giusto compromesso su, cioè, quanti soldi ci metto, è ovvio, su un'idea di trading non si può mettere il 100%, no? Perché se sbaglio, quell'unico trade ho finito tutti i soldi, benissimo, dall'altra parte potrei dire, posso mettere l'1%, è una scelta sessantissima, eccetera, la matematica ci fa capire che su un trade potrei mettere dall'1 fino al 5%, è già tantissimo il 5%, eh? Però, potrei anche metterlo, vorrei trovare delle altre risposte, ok? Sicuramente c'è una parte positiva, ma anche una parte negativa nella martingala, sicuramente c'è molte più componenti positive nell'anti martingala, ma non è ancora quello che mi serve, quello che voglio, e quindi ci ragionerò. Mi è venuta un'idea, e poi vedremo se porterà a qualcosa, intanto poi così finiremo anche di vedere il foglio che vi avevo fatto vedere a fine dell'anno, sull'anti martingala. Detto questo, senza divagare troppo, allora niente, qui sotto abbiamo un valore aggiunto, ok? Qui sopra abbiamo un valore aggiunto, vedete che il primo attacco ha subito respinto il prezzo, poi vedete che ce n'è un altro di attacco, adesso qui è diventato giallo, per adesso fate finta di non vederlo, pensate solo alle lunghe linee rosse, di nuovo nella mia testa, questa qua, se quella del giorno prima era 5 cm, questa è 7, 8, 9 cm, quindi ancora più lunga, quindi per me Euro-Dollaro nel giorno 29 novembre, era da guardare con buona possibilità di rimbalzo da qui, e buona possibilità di, come dire, torno indietro da questa zona, ed è quello che è capitato, ok? Ciao Fabio, aggiungerei sul caso appena mostrato, che andrebbe a compensare una V, o a completare, penso magari, io capirei meglio la frase, assolutamente le V di inversione, Fabio, sono assolutamente, ricordatevi sempre la solita regola, io ve le ripeto, allora, due ve ne dico, uno, quando entrano le banche, long fanno minimi crescenti, non guardate i massimi, per quello che quando noi entriamo long, che ne so, senza zoomare, guardate qui, qui con questa spike, probabilmente è entrata una banca, sul doppio minimo del giorno prima, ok? Guardate, minimo, 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 questo è stato il trenino della banca, quindi quando entrano le banche, non ci interessa, se io entro qui, se mi fa, vum, tantissimo verso l'alto, dovrei, dovrei, perché poi anche lì, mi vado a riparametrare la volatilità, che secondo me può fare quel giorno, dovrei, solo che essere contento, e non preoccuparmi di, ha corso tanto, mi crollerà addosso, no, ha corso tanto, benissimo, io continuo a seguire i minimi, se è entrata una grossa banca, una grossa istituzione, farà minimi crescenti, non me ne deve fregare niente, in senso buono, dei massimi, al contrario, se entrano short, e per dire, cominciano a fare massimi decrescenti, e poi ad un certo punto crolla così, chiaro, siamo degli esseri umani tutti quanti, qui ci brillano gli occhi, e contiamo i soldi, e siamo tutti uguali, quindi qualcosa prendo, però, in realtà, io dovrei continuare a tenere fede ai massimi decrescenti, perché, se sono entrate le banche, faranno massimi decrescenti, chiuso il discorso, e l'altra cosa importante, ricordatevi, che la caratteristica, la ripeto, dei massimi, o dei minimi, è quella di essere stati, dei prezzi, battuti per pochi istanti, vi avevo detto, dei miei test che ho fatto, sui mercati regolamentati, ad esempio, il DAX, fate finta che questo sia appunto, un mercato regolamentato, cioè con un book ufficiale, un unico circuito tradabile, su tutto il pianeta Terra, ok, dove ci sia realmente, la controparte, non del broker, per esempio, bene, allora, sul minimo qua, ok, magari, il minimo, lo prendono tre persone, cioè, c'è uno scambio di tre contratti, sul minimo, perché sta così poco tempo, che non c'è tempo materiale, per scambiare migliaia di contratti, poco prima, magari, sull'allungo al ribasso, sono scambiati, diciamo, ogni minuto, vengono scambiati 100 contratti, quando sta andando a trovare un minimo, o un massimo, per molti minuti, antiché 100, vengono scambiati anche 1000, 2000, 5000 contratti, ma sul minimo assoluto, o sul massimo assoluto, i contratti che sono passati, sono pochi, io ho visto dei minimi, o dei massimi del DAX, dove è passato un contratto, cioè, solo una persona, ha preso proprio quel minimo lì, è stato un managlio, neanche un secondo, meno di un secondo probabilmente, lo scambio è via, ok? Quindi, la caratteristica dei minimi, dei massimi, è il fatto di stare pochi istanti, in una zona di prezzo, quindi è chiaro che, non appena noi ci si avvicini a questo livello, e vedete che, boom, è stato velocemente rifiutato questo livello qui, cioè, è stato lì per poco tempo, è chiaro che, prima me ne accorga, magari con una trendline qui, o la media mobile, eccetera, prima entri, meglio è, perché ha proprio, come dire, il sapore di un minimo, ok? Anche qui, se voi guardate questo massimo qui, vedete che è stato poco tempo, ma è stato più tempo ancora qui, questo qua è stato più veloce, su e giù veloce, meno tempo stiamo, e più abbiamo un vantaggio, e perché vi dico che quest'anno voglio usare tantissimo le spike? Perché le spike sono questo, finito, ok? Bene, quindi anche questa giornata, con il livello rosso, per adesso la do archiviata, come archiviata, ok? Avrebbe dato un vantaggio. Andiamo a questa giornata qui, di nuovo vi faccio vedere che, chiaramente, se voi ci fate caso, guardate dove si è fermato il minimo qua, no? Si è fermato qui, e guardate che cosa c'era, c'era questo square, ripeto, la giornata cambia, lo square cambia, però in realtà, questa linea qui, lascia traccia, quindi il giorno dopo, noi arriviamo, la vediamo questa qui, quindi vediamo quella, vediamo una candela lunga, vediamo le spike, vediamo che reagisce in fretta, vediamo la V di inversione, ripeto, come dire, agguzziamo l'ingegno, e facciamoci un attimino una pensata, e poi quella pensata, la andiamo a contestualizzare, con una gestione del tipo, posso anche entrare qui, subito in close, per prendere anche solo 10 pips, rischiandone 30, e ho un vantaggio importante, come sequenze a mio favore, detto questo, partendo dai massimi, di nuovo, dove si è fermato l'euro-dollaro, dove c'era un po', come dire, una zona, no? Benissimo, però, chiaramente, prima c'era un livello, molto più interessante, nella mia testa, e prima ancora, ce n'era un altro, che comunque era, altresì interessante, ed ecco qui, che vedete, con i vostri occhi, una cosa che capita tante volte, e qui, ognuno di noi, una volta che avrà preso, consapevolezza, su queste possibilità statistiche, ci mette la gestione che vuole, vi faccio un esempio, prendiamo, queste due linee qui, una, e due, ok? Allora, io posso, qui così, entrare, con la consapevolezza, che chiaramente, riferendomi, alla volatilità, più o meno, della giornata, Cioè, cosa voglio dire, se io misuro da qui, fino a qui, ha fatto 84 pips, no? L'euro dollaro, se ne fa 100, va già bene, no? Quindi io dico, se io entro dopo 84 pips di salita, a priori, al brucio, su questa zona qui, di quanto mi può andare ancora contro? 15, 20, 30, allora in quei 15, 20, 30, magari 50, vado a ragionare, sulla possibilità di mettere altri ingressi, quindi sarebbe andato contro di 40, ok? Quindi, in genere uso proprio i 40 per piramidare, avrei potuto metterne uno qui e dico, ok, se mi va contro magari di 40, magari dico mi sento un po' tirato, metto 35, ne vendo un altro qui, ok? E, che cosa mi aspetto? Mi aspetto che moltissime volte ritorni a fare il pullback, e già in giornata, quindi questo è un vantaggio, cioè, vendo qui, chiudo alla pari, vendo qui, e chiudo in gain, però se non vi piace entrare su più livelli, o per una ragione o per un'altra, di nuovo, zoom un attimo, così lo vediamo meglio, io so che quando il prezzo mi va a prendere questa linea, già è una situazione di ipercomprato, no? Quando mi va a prendere anche quest'altra linea, e ancora di più in ipercomprato, allora cosa faccio? Sotto la media mobile a 12, vendo, così, non devo né piramidare, e so già anche bene dove ho lo stop loss, cioè sopra il massimo, poi qui vedete che è andato a romperlo di un pelo, gli mettete un filtro di spazio sopra, due, cinque pips, e fate un po' di test e via, quindi posso entrare short qui, primo target, qui, e posso chiudere qualcosa, o seguirlo stretto, tracciare una trend line, chiudere qualcosa qui, e quando poi mi va sopra la 12, chiudere tutto, o chiudere quasi tutto, e poi mettere lo stop a pari, però questo era un vantaggio, ce l'abbiamo davanti agli occhi, guardate che lo square, adesso ripeto, e vi ringrazio, molti sono nuovi, magari entrati oggi, o ieri, o questa settimana, ma molti di voi sono vecchi di anni, queste cose, questi discorsi qui, sono discorsi che facevo già tre anni fa, cioè non è cambiato niente, cioè continua a lavorare così, cioè sono quelle cose che, sono contento, sopravvivono alla prova del tempo, e sono sempre uguali, poi, ripeto, quello che può essere a volte, un mio pregio, cioè tante idee, a volte diventa anche una cosa, che mi gioca contro, nel senso che ho troppe idee, per fortuna, moltissime sono buone, e come faccio però a usarle tutte, soprattutto se non le faccio programmare, ok? e quindi sulla fine non riesco a usare tutto, però io cerco di pian pianino, durante ogni anno, buttarvi addosso il tutto, quindi da domani voi vedrete, domani no perché condividessimo che c'essimo, però da oggi, o da ieri, o da giovedì, o da quando vorrete, in avanti, a parte domani, vedrete lo square plottato, questi ragionamenti fatevi anche da soli, in senso buono, ok? Grazie Fred, ok? Quindi questo lavora bene, dà una vita, poi non sto dicendovi che non prenderete stop loss, però intanto andiamo avanti, e continuiamo a vedere, ok? E vediamo poi anche ieri, oggi in diretta, andiamo alla giornata del primo di dicembre, di nuovo, di nuovo, l'occhio mi capita dopo una certa ora qui, perché la linea, come sopra, la linea più lunga, però guardate, e comunque va sopra e ritorna, guardate, va sopra e ritorna, guardate, guardate, va sopra e ritorna, ok? E anche qui, ovviamente. Il problema è questo, che spessissimo mi girano, in senso buono, ovviamente, e so che questo massimo è dipendente da questo, solo che questa linea qui, sarà un centimetro, non la mia testa, è troppo corta, quindi, è chiaro che se voi avrete, in questa zona qui di vostro, un'idea già short, perché magari, faccio un esempio, facciamo, da qui a partito un ciclo, e ha consumato, che ne so, così le prime due gambe, no? Per esempio, questa è la terza gamba, che ha il 75%, come abbiamo detto, arriva qui, benissimo, però per voi è un ciclo che deve iniziare a chiudersi, no? Ne percepite la debolezza dal punto di vista di causa ed effetto. Si ferma qui? Non è un caso, si è fermato preciso, ok? Bene, sotto la 12 vado short, e stoppo qui sopra, oppure stoppo là sopra, ok? E poi, ripeto, la mezzeria, sarebbe qui così, e quindi questo è un trade, con stop là sopra, e ripeto, cominciate a prendere coraggio, nel, prendere 10 pips, rischiandone 50, cominciate a ragionare che si possa fare così, e forse è pure meglio, e dopo lo rivediamo, ok? Chiaramente, verso il basso è più facile, perché questa qua, che è lunga, parla da sola, boh, finito. Questa è una zona di, come dire, iper venduto, io qui, sono compratore, poi di nuovo, fate come volete, nel senso, per l'ultima volta, Poi non è vero che non ce la faccio, traccio una trend line, entro long qui, o quando rompe qui, questa zona, perché ha tenuto questa zona, piuttosto che, che ne so, traccio così, ed è un wolf, e quando va qui, entro long per un wolf rialzista, in zona di iper venduto, tra virgolette, no? Oppure, entro al brucio, a priori, entro qui, metto uno stop loss di 30, 40, vi chiedo di fare delle simulazioni, posso usare uno stop loss qui sotto, che più o meno si avvicini, ai 30 e 40, non lo so, misuriamolo, 44, va bene, metto uno stop loss di 50, per prenderne 10, poi, se sono davanti ai monitor, quando mi arriva più 10, non è che lo metto in macchina, cioè, guardo un attimo, se cincisca li prendo, se va, posso essere fortunato, ok? Quindi anche questa giornata, la do per buona, quindi, il fatto che Euro-Dollaro non parta tutti i giorni, in forte trend, non è un problema ragazzi e ragazze, anzi, gli square lavorano molto bene, vado il giorno dopo, il giorno dopo, niente, sulla fine, i minimi, diciamo così, vedete, li hanno fatti su questi square, più o meno, e questi massimi, li hanno fatti qui, più o meno, ok? Però, come faccio a fidarmi? Eh, sono troppo corte, è stato poco tempo lì, è meno affidabile, ok? Proprio, non per logica, ma per questioni che, ho fatto i test, visive, ok? Quindi avrei gradito questa linea, o questa, chiaramente, però non ha dato niente, quindi, vabbè, rimango flat, ma è chiaro che, se però, io che ne so, vedendo questa spike, no? Vedo che riescono a fare anche triplo, quadruplo massimo, vedo e posso pensare che tutti i piccoli vogliano andare a chiudere il gap, o il lap, perché è più corretto, un lap, benissimo, vedo la spike, sotto la 12 voglio provarci, per portarlo fino a qui, però quando arriva sul doppio minimo, reagisce, mi chiudo, può andare bene, ok? Diciamo, il grafico è fatto, però le logiche sono queste, ok? Andiamo avanti, giorno dopo, di nuovo, verso l'alto, i massimi, non, come dire, non li ritroverei qui, ok? Però, se io vado a guardare questa zona di minimo, può essere questa, ok? Quando vado sopra la 12, capite, di nuovo, è tanta roba, però, se tu, chiaramente, che ne so, è come quando abbiamo preso la patente, l'esempio è sempre lo stesso, cioè, quando abbiamo preso la patente, ricordarsi di fare con i piedi, le mani, gli occhi, tutti i comportamenti che vanno fatti per guidare, era un casino, no? Penso per tutti, la prima volta che abbiamo guidato, oggigiorno, no? Guidiamo, al solito esempio, facciamo mille altre robe, mentre guidiamo e sbagliamo, però, a parte questo, facciamo tante robe insieme e guidiamo in automatico, qui è uguale, no? Nel senso che, se io ho studiato i cicli, no? Ad un certo punto vedo che questa possa essere la chiusura di un ciclo, qua così, no? qualsiasi esso sia, e vedo questa zona, allora, un long sopra la 12, con stop loss sotto, ma tutta la vita, finito, quindi, la zona dello square mi dà un'idea di trading, ovviamente, in contrarian, sulle linee rosse, per adesso, questa zona qui, che è lunga, che può essere o così, o, allungabile anche con questo, no? Di nuovo, questa zona qui, di nuovo è un buy, o a priori, e gli metto uno stop loss di 30, 40, 50 per prenderne 10, e li prendevate qui, oppure, entro qui ed entro martingalando, piramidando, oppure, aspetto, traccio una trend line, ed entro qui, chiaramente, ma, poi, posso condurla con una trend line, e mi stoppo qui, insomma, posso anche perdere ogni tanto, però, io, quello che voglio farvi notare, è che in questa zona, l'euro dollaro si è fermato, e dipende da questi square qui, poi, sotto, neanche a parlarne, di nuovo, la linea si allungava tanto, e qui così, sopra la 12, ed era un bel long, poi, è chiaro, quello io non lo farò mai, per questione di energia, e a quell'ora lì, non lo faccio, ok, però, c'è, c'è a tutti gli effetti, vado al giorno dopo, il giorno dopo, di nuovo, se io prendo, questa zona di minimi, non è casuale, guardate, questa, che si unisce a questa, quindi, questa, è una zona dove, tra le altre cose, se qualcuno, ah, io Fabri ho shortato qui sotto, bravo, brava, bene, ti arriva qui, prendi profitto, perché, può essere usato anche come zona target, e comunque, vedete che il rimbalzo c'è stato, ok, bene, andiamo avanti, questa giornata qui, di nuovo, i massimi, sì, i massimi sono su questo square, però, non ci credo, cioè, vedendo questa, userei quella, o userei questa, se usassi, o se avessi mirato questa, vedete che dove è arrivato, comunque, quantomeno, è un target dello short, in questo caso, qui, doppio minimo, vicino allo square, chi è più bravo, chi è più fiducioso in se stesso, o se stessa, ci siamo capiti, quindi, doppio minimo, in zona square lungo, adesso, l'ha mancato, ve lo dico di quanto, l'ha mancato di, 2,8 pips, 2,7, perché poi sembra tanto, ma, sono 3 pips, doppio minimo, a 3 pips, dallo square, mi chiude sopra la 12, long con stop sotto lo square, ok, il grafico è fatto, però la regola è sempre la stessa, andiamo avanti, anche qui, i massimi non li spiego, però questo minimo, cioè questo square qui, vedete che tutto sommato, mi dice che qui sotto, drizzerei l'antenna, e mi preparerei per andare long, poi chiaramente, perché gli ho messo la volatimetria sotto, ragazzi, ragazze, perché adesso parliamo del livello, della zona, e poi ci mettiamo la volatimetria, però, questo square qui, io ad esempio, questi qua che sono i non fan per roll, io, quando sono usciti, questi non fan per roll, il prezzo è andato su fino qua, e poi stava tornando giù, io, me lo ricordo, avevo messo un sell stop qui sotto, che non mi ha preso per, veramente, forse un pipo 2, non di più, e mi è andata bene, perché non avendomi eseguito, poi andando su, io sono rimasto tranquillo, però, ho fatto un errore, ma perché? Perché non riesco, ripeto, a livello umano, a scoprire, a scoprire sì, a usare tutte le scoperte, cioè, con una zona qua così, questa più questa, dov'è la metà? Più o meno è qui, ok? Quindi, questa è una zona, tutta dove, io, se parlassimo di indicatori, vi direi, siamo in iper venduto, quindi, un triplo minimo, una spike del genere, è un long, fino a questa zona qui, ok? Il grafico è fatto, vedete, quel giorno, non usando lo square, avevo, dal piano cartesiano, un'altra idea, ok? Andiamo avanti, il giorno dopo, è qui così, cosa vi devo dire? Questa zona qui, la vediamo tutti, spike, entro sotto la 12, con sto plus qui sopra, piuttosto che entro sotto una trend line, piuttosto che entro sotto il martello, che ha, sotto queste due o tre spike, entrate dove volete, no? Poi, cosa succede? Che adesso qui non lo vediamo, perché questo qua non ce l'ha dentro, ma, quando poi, noi si entri in questa zona short, o chi è più aggressivo, velocemente entra qui, bene, prendo, faccio la metà, ma non dovete farlo, perché lo fa l'indicatore, questo è un primo target, finito? Anche qui guardate dove si è fermato il prezzo, perfettamente qua, non è un caso, quello che posso dirvi è che non ho ancora capito tutto, perché se avessi capito tutto, un domani, se qualcuno comprenderà perfettamente la PPA, sapete che cosa otterrà? Io questo ne sono, me lo sento dentro, ne sono convintissimo, altrimenti non ve lo direi, io penso che ogni swing, cioè ogni volta che il prezzo si fermi e vada su, si fermi e vada giù, poi si rifermi qui e arriva da su, eccetera eccetera, sono degli square, di tutti gli altri strumenti, solo che è un casino riuscire a forse trovarne, come dire, la regola, ok? Allora, questa è una giornata interessante, verso l'alto, di nuovo, qua sono un po' tutti, vedete, a scalare, però se io definisco che questa è una zona di resistenza, ok? Il prezzo ci arriva, se qua sono, vedete come tornano tutte utili le info, sono negli orari del contrario, ve li faccio rivedere, per chi non c'era ieri, perché così ve li memorizzate, questa è una media, stavo dicendo una media mobile, in realtà potrebbe anche essere mobile, ma in realtà no, è fissa, è una media del ciclo del forex, quindi voi nel forex, non su euro-dollaro, nel forex, vi aspettate dalla open, una notte, mediamente piatta, mediamente, ok? Piatta, e poi, le strade sono queste, queste sono le possibilità, e quindi le inversioni, voi le potete pensare, statisticamente parlando, tra le 8, le 9 e un quarto, 13, 14 e 15, alle 15 e 30, e tra le 17 e 30, le 18 e 30, allora, memorizzati quegli orari lì, memorizzati quegli orari lì, io arrivo, cioè, arrivo al pc, sono qui per esempio, vedo che qui, ha scalettato, però c'è una zona, ok? In questa zona, che ora è? Adesso qui, sono le 10 e 30, 9 e 30, è un po' oltre, perché abbiamo detto, 8, 9 e un quarto, ma fate finta che siano le 8 e mezza, Capite? L'unione fa la forza, allora lì, mi sciorto sotto la 12, stoppo qui sopra, benissimo, quando sono short, lo square che domina è questo qua, la metà più o meno, sarà qui, ecco, in questo caso, se non mi conviene entrare, perché verso il primo target dello square, non c'è spazio, posso anche saltarla, se però fosse stato più basso, avevate anche il primo target, rotta ovviamente la metà, punto alla zona sotto, no? Quindi, questa poteva essere una zona sell, per questa ragione, quindi io vi do il perché, chiaramente, quando poi ha accelerato, ed ha iniziato ad andare giù, chiaramente, è lì che vi dico, non uso oltremodo i trattini corti, ok? Perché? Perché il trattino corto, tante volte ti becca al massimo, però se vedete che parte un trend, dovete ricordarvi che quel trend lì, si ferma non su uno square piccolo, lungo poco, ma su uno square abbastanza lungo, ok? Quindi, qui se io unisco questi due, più o meno ho una zona interessante, che cosa capita? che il prezzo si è fermato, poi, se uso lo stesso filtro di prima, non entro, non entro long, perché non va mai sopra la 12, prima di fare nuovi minimi, se io invece entro al brucio, per così dire, cioè entro qui, con uno stop loss di 50, e ribadisco, per prenderne 10, adesso qui non so se li abbia dati, però, ne ha dati, ecco 5, perché, vabbè, qui è una volatilità bassa, però, conosco euro dollaro a più 5, per esempio, mi metto stop a pari, no? allora posso avere anche quel vantaggio, ok? Quello che voglio farvi di nuovo notare, è chiaramente, attenzione, perché questa cosa qui, che vi sto per far nuovamente notare, non è il senno del poi, ok? ma è oggi e domani, poi basta, non è che, se non funziona entro oggi, o al massimo domani, boh, finito, ok? Cosa voglio dire, cosa vuoi dire Fabri, che questa zona qui, può essere un caso, però ne vedrete tanti, quindi, va bene anche se è un caso, l'importante è che ce ne siano tanti, il giorno dopo è stata ripresa, ok? Quindi, quando io da una zona interessante, non ho, diciamola così, un rimbalzo adeguato, per poi di nuovo scendere, quando non ho, non ho, ripeto, non ho un rimbalzo adeguato, è come se ci fosse un gap, diciamola così, che per il giorno dopo è una zona di nuovo interessante, quindi questo vuol dire, che non è che si debba entrare qui, e piramidare a vita qui sotto, però se si entra qui, e ad esempio, io qui gli vado a mettere una 48, che sempre abbiamo, no, ne abbiamo parlato ieri, e sempre usiamo anche quella sul ciclo, se io gli metto una 48, per esempio, giusto per avere più confidenza col grafico, è un qualcosa di superiore, più strutturato, se io qui so che c'è un livello che, ha sentito, ma non avrebbe pagato niente, quindi potrebbe essere, una zona da riprendere, e io ho la 12 che va sopra la 48, lasciamo stare che a quell'ora lì, io non trado più, però avete capito, è un livello che ha sentito, è un livello che ha sentito, soprattutto perché rischio questo, per prendere, anche un po' di più, quindi tornano utili queste informazioni qui, quindi quello era una zona long, se invece uso in zona dove dovrebbe invertire, o potrebbe, il filtro di una chiusura sopra la 12, qui non entravo, se invece uso una piramidazione, entravo qui, e chiaramente da qui mi andava contro, di 35 pips, quindi di nuovo come prima, perché uso i 40-35, compro qui, compro 35 sotto, chiaramente mi fermo qui, ma voi dovete poi capire, cosa fate, se va giù ancora di 35, comprate ancora, stiamo parlando di intraday, capite? Io direi due colpi, e quindi il secondo colpo, e anche il primo, dove li stoppo? Se mi va giù di quanto? E stiamo parlando tendenzialmente di intraday, fatevi due calcoli, come sempre vi dico, quindi io vi dico, questa è una zona comunque interessante, sono livelli che credetemi, non so quanti tengano d'occhio, e quindi il fatto che, siano comunque, secondo me poco divulgati, anzi, forse, non voglio dire sono il primo al mondo, però, non escludo di esserlo, perché, magari, mica tanti hanno pensato di fare, fare un indicatore del genere, quindi, non è divulgato, e funzionano, quindi vuol dire che funzionano, non come i pivot, che possono funzionare, perché tutto il mondo li vede, questi funzionano, perché c'è proprio questa regola, di parità del potere di acquisto, quindi, è un'idea, c'è un'idea dietro, ok? C'è proprio l'idea che funziona, non è che funziona, perché si divulga, e quindi tutti li compreranno, quindi, ragionate su queste gestioni, sopra la 12, oppure, con una ripartenza di un ciclo più grosso, se è andato molto sotto, anche con due colpi, distanti 30, 35, 40 pips, ma poi dovete capire, dove è lo stop loss, e niente, oppure con, evidentemente, anche una trendline, potevo entrare qui, mi stoppavo qui sotto, rientravo qui, mi ristoppavo di sotto, ok? Quindi, anche qui, mi sento di dirvi, che, rispetto a non avere, a non avere queste info, averle, è meglio averle, cioè, questa è una zona dove, tra oggi, vi direi in diretta, tra oggi, e domani, il prezzo C, dovrebbe dare un vantaggio, a sapere questa informazione qui, ok? Poi, usatela come, più, gradite, andiamo qui, allora, qui di nuovo, partiamo dal fondo, è più facile, dal basso, tiro 1, tiro 2, doppio minimo, aritmia ciclica, spai, chettina, questa è una zona, vai, ok? Qui ha fatto un doppio massimo, dove, eravamo vicino a una resistenza, se io, allungo, la resistenza, la fascia, vedete che qui, di nuovo, ne posso avere un vantaggio, e più o meno, a occhio, penso che, se facciamo la metà, da qui fino alla metà, che è la metà dello square, ci si sia arrivati, e quindi, quello può essere un vantaggio. Poi, è chiaro che, ci vuole un po' di bravura, no? Perché, nel senso, è un mestiere che si può, insegnare, è un mestiere che quindi, si può imparare, eh, però poi, dovete usare, il buon senso vostro, quindi qui, c'è il FOMC, ok? Qui c'è il FOMC, quindi non è, che, eh, proprio, in questi primi minuti, del FOMC, io, eh, a cuor leggero, ormai, questa zona qui, vedete, l'ha sentita, è andato giù, poi l'ha recuperata, l'ha pull beccata, no? Quindi vedo che sta andando su, qui, a tutti gli effetti, in questa zona qui, il prezzo si è fermato, ed è stornato almeno fino alla 12, però, ripeto, andare in contrarian, lì, durante il FOMC, direi anche di no, ok? eh, posso guardare il giorno dopo, che cosa sarebbe capitato, traccio questa linea qui, e il giorno dopo, il prezzo ci è ritornato, ripeto, tra oggi e domani, ragazzi e ragazze, se no poi è ovvio che, eh, già solo per casualità, da qui ai prossimi 100 giorni, tutti i livelli li potrebbe chiudere, no? Io vi dico, tra oggi e domani, quindi, qui, la linea rossa, spessa l'ha sentita, non ha più di tanto pagato, ok? Chi è bravo e veloce, qui qualcosina ci poteva fare, ok? Poi, esatto, bravo Fabio, il FOMC, che la BCE, tipicamente, bravo, danno continuità, questo è proprio verissimo, statisticamente parlando, quindi, tutti i giorni, euro-dollaro va bene in contrarian, anche sui non-farm payroll, ma proprio sul FOMC, sulla BCE, quando parte da una parte, meglio stare da quella parte, grazie Fabio, però, il giorno dopo sono ritornati qui, può essere un caso, però, è il giorno dopo, non è dopo 5 giorni, allora, è un caso, il giorno dopo, quindi, da qui, che cosa succede? Da qui succede che, se io misuro, vedo che il prezzo sarebbe andato contro, di 77 pips, finché stiamo nei 100 pips, secondo me, c'è memoria storica, diciamola così, ok? Esatto, esatto Fabio, sono assolutamente d'accordo, e vorrei prenderne 2 o 3 di BCE o di FOMC, quest'anno, come hai scritto te, ok? Quindi, io vi lascio con questa idea, il giorno dopo, oltre al fatto che, cioè, diciamola così, il fatto che qui, ci sia questo, posso anche non usarlo sul FOMC, posso ricordarmi nel giorno dopo, e se il giorno dopo, questo su e giù veloce, a rottura falsa del massimi, mi fa entrare short in questa zona, e vedo che va giù, questa è una zona target, oltretutto, tra virgolette, casualmente, quel giorno lì, sulla zona target del giorno prima, c'era una linea lunghissima, quindi per me, questa è una zona dove, se ci arrivo short, mi devo chiudere, e posso provare un buy in questa zona, perché questa linea qui, vedete quanto è lunga, cioè, è veramente tanto lunga, quindi, che venga rotta, e non recuperata, e non mi dia un vantaggio, la vedo dura, statisticamente parlando, ok, quindi vedete, che lavora veramente, molto molto bene, quindi quel giorno lì, è fatto, poi andiamo in questa giornata qui, e di nuovo, questo mi fa, tra virgolette, arrabbiare, perché il massimo, me lo spiega quello square lì, però è troppo piccolo, devo avere altre info, ok, questo square, non è così lungo, se lo unisco a questo, però qui c'è stato il giallo, e a questo, questa è una zona, faccio in metà, e più o meno, l'ha sentita, se faccio questo, l'ha sentita perfettamente, il giorno dopo, però in realtà, lì è come se ci fosse continuità, nel senso che, l'ha sentita perfetta, guarda caso, qui ha, secondo me, sufficientemente pagato, questa qua, comunque, l'ha sentita, vedete che, se imbastiamo il lavoro, su quella zona lì, non è che, come dire, andiamo a fare degli errori, questa è una giornata, dove, di nuovo, c'è una forte resistenza, che non solo è questa, ma è anche più questo, è anche più questo, sostanzialmente, quindi questa, è una forte zona, dove, io posso prevedere, non io Fabri, io chiunque, voglio usare questo, modello qui, possiamo stimare, che, già da qui, si può entrare al brucio, per prenderne 10, rischiandone 50, si può tracciare una trend line, si può entrare sotto la 12, tutti questi prezzi, qui sopra, con i rendimenti, si possono prendere in contraria, con il Fabri R, se ci avvalora, questa salita, se va con il Fabri R 08, qui sopra, cioè, è tutto short subito, ok, sotto la 12 al più tardi, c'è ancora, ripeto, la trend line, se qui avesse fatto una bella spike, non so, magari qui ci sono anche dei pivot, allora diventano più, come dire, interessanti, quello che è il mio concetto è, questa lunga linea rossa, se viene rotta così, è difficile che non venga ripresa, ed è stata ripresa, vedete, con una bella velocità, una bella V di inversione, quando chiaramente, tu sei dentro da qui short, per esempio io, che vado magari a leva un quarto, poi faccio, intanto qui quanto è andato contro, 33 pips di nuovo, quindi, per dire, qui ci stanno due ingressi, non di più, uno qui subito, e l'altro in zona 30, 40, 35, no, chiaramente, quando vendi qua, almeno io, penserei a questo, normalmente, e invece, il fatto che abbia fatto subito così, a voler subito riprendere lo square, è per me, è per me un forte indizio, non è una casualità, ok, quindi anche questo, ce lo portiamo a casa, poi questa giornata qui, vabbè, verso i minimi non vediamo niente, di nuovo ragazzi ragazzi, adesso ce l'ho un po', questa è una zona su, ma la ripresa, questo è troppo piccolo, ma comunque avrebbe fermato il prezzo, questa è piccola, questa qua è stata fino alla fine giornata, ma insomma non è stata toccata, ma comunque lo short l'avrebbe dato, ok, vado avanti, questa giornata qui, verso i minimi, c'è questa, chiaramente prendiamo l'abitudine di plottarla al giorno dopo, ma non ci sarebbe servita, e poi c'è questa qua, sicuramente, ok, poi ci potrebbe anche essere questa, e queste qua sono piccoline, va bene, quindi queste due qua ci possono essere, di nuovo, il discorso è, se io faccio al brucio, allora, se faccio con la 12, vedete che non ci va sotto, e quindi, ve ne tirate fuori, e rimanete flat, se fate con la trendline, entrate qui, e tutto sommato alla chiusura vi difendete, plottiamole, proiettiamole al giorno dopo, proiettiamole, se ce la faccio, al giorno dopo, una, e due, ma prima di proiettarle, se io entro al brucio qui, e 30, 40 sopra, 30 sopra qui, faceva anche 40, allora io entro short qui, ed entro short qui, a fine giornata, sono già salvo, perché se io ovviamente entro qui, a leva un quarto, e qui raddoppio, quindi vado a leva mezza, io quando già sia sulla metà, sono già in guadagno, quindi qui esco già in guadagno, tendenzialmente ricordiamoci, o ricordatevi, se gradite, che stiamo parlando di intraday, se però il mio intraday, quel giorno lì, non va come vorrei, mi riservo il giorno dopo, allora comunque, già in giornata, questo, viene superato, ma viene ripreso, c'è da capire se prenderà questa, che era comunque, ve la faccio vedere, una linea rossa, decisamente lunga, sarà 4-5 cm, nella mia testa, e il giorno dopo l'ha presa, ok, quindi, di nuovo, interessante, il giorno dopo di nuovo, nella prima parte, cioè nella mattinata, questa qua, niente, questa qua non è un massimo, ma di nuovo, non è che l'abbia mancata, di tanto, l'abbia mancata di 3-4 pips, quindi, ci ragiono, nel senso che, vedo anche un wolf, vedo le spike, vedo la vicinanza di una resistenza, che avete capito, che statisticamente parlando, funzioni, una chiusura sotto la 12, un tentativo, che può essere più che legittimo, stop loss qui sopra, o sopra lo square, ok, sì esatto Fabio, dice, interessante, quasi ogni giorno c'è un segnale, e certo, per quello che ripeto, vorrei concentrarci, sull'euro-dollaro, perché praticamente tutto lo tradi tutti i giorni, e ripeto, poi, quello che fa la differenza, non è tradare euro-nzd, che ti fa 200 pips in un giorno, ok, e tradare euro-dollaro, con consapevolezza, prenda gli 8 pips, e farne in proporzione, 80, 100, perché ovviamente ho spinto, parlo per me, con la leva, che non metterei su euro-nzd, dove tra l'altro, ho dei costi anche più alti, no, se io traccio questa, questa non è lunghissima, se traccio questa, unita a questa, è porca paletta, non è un caso, ragazzi e ragazze, cioè, è così, ok, scusate, è così, in quella zona lì, ripeto, io vi dico, qua e qua, ragionate, e anche qua, ragionateci come volete, ma in long, ok, non ripeto, chiaramente può anche capitare, che io vada long qui, sopra la 12, e mi stopperà qui sotto, eh ragazzi, ragazze, fa parte del gioco, rientro long qui, e provo a ristoppare lì sotto, ho perso questo, qua me l'ha ridato, qua me l'ha ridato, finito, ok, bene, questo è interessante, questa giornata qui è interessante, leggo solo un secondo, va bene Fabio, siamo in allineamento, guardate, io vi dico che, tutti gli swing, sono da PPA, tutti, io per adesso ho capito questi, ma, man mano, magari un domani li capiremo, non dico tutti, perché a scoprirli tutti, avremo proprio, la sfera magica, cioè, va fino lì, torna indietro, arriva su, poi va qui, poi va là, tutti sono spiegabili, tutti gli swing, cominciamo ad accettare di aver capito questi, guardate, questa non è una linea rossa lunga, però c'era, quando è stata rotta con questa cattiveria, io poi la proietto avanti, dove è ritornato il prezzo, capite, è questo, sono degli attrattori del prezzo, quindi, non trato a quest'ora, però vedo questa spike, di coraggio, e di, come dire, un po' di entusiasmo, e, un po' con il, da impavido, no? Compro qui, dico, metto lo stop loss qui sotto, vado, perché magari, qua sono le due di notte, sono, o l'una di notte, sono sveglione, per dire, no? Bene, compro qui, metto lo stop loss qui sotto, e metto il target, poco sotto, questa linea qua, non perché si sia fermato poco sotto, che poi avrebbe preso, ma perché si mette il target sotto la resistenza, ok? Quindi, e vedete dove si è fermato, e quando è arrivato qui, non la prima volta, ma sul doppio massimo, poteva essere interessante fare ancora uno short, sono livelli, decisamente interessanti, e sono così da anni, e non sono mai cambiati, allora qui, è il 26 di, febbra, di, di dicembre, il 26 febbraio, mi è scappato l'apsus, perché è il mio compleanno, invece qui era di dicembre, non inizia la giornata con gli orari canonici, quindi l'indicatore mi mette lì, ma non era da usare, ok? Allora, andiamo a questa giornata qui, che sale, no? Purtroppo non c'è uno square per prendere i minimi, ma se io di nuovo vi faccio vedere, quello più lungo, ok? Allora, quando arrivo qui, io vi dico solo che, vedete, offre subito resistenza, viene superato, viene ripreso, ma ancora su viene ripreso, quindi è un attrattore dei prezzi, e devo sentire il programmatore, Fabio, poi ve lo faccio mettere sotto licenza, assieme già, anche alla volatimetria, ho già scritto ad Andre, ma, ripeto, come qualcuno ha detto, sta facendo il narco, tra l'Italia e la Colombia, marido, ma, è vero, sarà andato in questo mese, Italia-Colombia tre volte, cioè, non so proprio perché, ok? Sì, sì, è così, questo square qui, Fabio, dico, io adesso non mi ricordo quando l'ho fatto implementare, ma, minimo, due anni, e comunque, non così assiduamente, ma per molti periodi l'ho guardato, e ho fatto molti test, non cambia niente, ok? È sempre così, è più o meno, vedi, avrà due anni, due anni e mezzo, qualcosa del genere, adesso, io oltre i sei mesi mi dimentico, andiamo avanti, ecco, questa di nuovo è una giornata interessante, chiaramente per ora non abbiamo parlato del giallo, ma lasciamolo ancora da parte, allora, se io arrivo alle 9 italiane di piattaforma, e siamo qui, 10 e 10, arrivo qui, 10 di piattaforma alle 9 italiane, se io arrivo qui, è ovvio che mi debba ricordare, esattamente chi c'era ieri, io cosa ho detto ieri? Ieri ho detto, il prezzo scende, stavamo parlando dell'annuale, questa è la media mobile dell'annuale, quando magari arrivi, troppo velocemente, sulla media mobile dell'annuale, cosa vi ho detto ieri? Che fa lo scherzetto, però, bisogna ricordarsi, che è pur sempre partito un annuale, e qui è uguale, nel senso che, il fatto che sia diventato giallo, comincio a dirvi, che vuol dire, che quel giorno lì, rispetto agli strumenti, che in genere guidano l'euro-dollaro, è l'euro-dollaro che guida, ok, quindi questo vuol dire, tendenza a rialzo, più probabile, però allo stesso tempo, il fatto che questa linea lunga, sia appunto lunga, e un attrattore, qui con il filtro della 12, non sarei entrato short, ma arrivo in questa zona, magari un tracciamento, di una trend line così, o sotto la 12, fino a più o meno questa zona, è un interessante, spunto operativo, però mi devo ricordare, che il trend è long, quindi non devo tirare la corda, il che si traduce in che cosa? che se mi chiude qui sotto la 12, magari non lo prendo più, se avesse chiuso più vicino, lo prendevo, e una chiusura sopra la 12, me ne tiro fuori, ma questo è un trade ad alta probabilità, dove, se voi entrate qui, mettete lo stop loss qui sopra, ok, e prendete profitto di fronte ai primi dubbi, un ritorno sopra la 12, avesse toccato perfettamente, il livello spai candolo, poi, di quanto l'ha mancato? L'ha mancato di, 2,8 pips, cioè non stiamo parlando di 20, o neanche 10, di 2,8 pips, allora se voi, vi portate questo a casa, io, alla fine dell'anno, avevo lanciato con una frase, che inizialmente, mi aveva quasi giocato contro, avevo detto, come si fa a perdere col Fabriere, e tra un po' ve lo andavo a dimostrare, no? Ma guarda caso, invece poi ho vinto, quindi questo è un incoraggiamento, che voglio farvi, non un'illusione, che voglio mandarvi, cioè rimanete con la testa sul collo, però, ragazzi, ragazze, questo, il grafico è fatto, però la regola è la stessa, cioè, questa è una linea che attrae il prezzo, se io fossi stato sveglio alla notte, e avessi shortato al brucio, qua, perché se avessi usato il fietto della doce, non avrei shortato, perché non ci andava, ma se avessi shortato qui, e 30, 40 sopra, dai 30 comincio a valutare, e qui faceva 26, quindi anche lì, non fa 30, torna giù, gli metto un'altra qua così, ok? io faccio qui e faccio qui, faccio la metà, quando sono qui, sono già in guadagno, e per il fatto che il secondo ingresso, è più pesante del primo, sono sicuramente in guadagno qui, quindi, quando mi ritorna qui sopra, me ne tiro fuori, ho fatto un tecnicismo, che mi ha difeso, andando short, in una giornata dove, con un open così, andare short, non è proprio il massimo, ok? quindi, di nuovo, le competenze, lo so che non siano poche, però pian pianino, come dire, si imparano, quindi, una open così, e subito partenza così, questa è una giornata long, poi, se noi andiamo a guardare sotto, la volatimetria, anche essa, ci diceva, ricordatevi, che quella rossa, dovrebbe stare, nel suo ambiente naturale, sotto la linea rossa, e sopra, sin dalla notte, questa è una giornata long, quindi, devo cercare, magari, di entrare long qua, in pullback, della zona rossa, certo, un po' di bravura ci vuole, però, io cerco di, insomma, in maniera obiettiva, guardare i grafici, perché, vuol dire, lo sto facendo per me, vi ringrazio, che facendolo per me, a voce alta, voi siete qui, e mi riconosciate il tutto, e, però, ripeto, i ragionamenti sono questi, fateveli i vostri, usateli, allora, ciao,